Che cosa sono i creative commons? Eh, allora, per come mi hai posto la domanda, i creative commons, che è corretta, al maschile sono i beni comuni creativi. Creative commons sono, le commons land nel diritto anglosassone sono le terre comuni, sono i pascoli in cui tutti potevano portare le bestie a pascolare perché non erano di nessuno. Quello che noi chiameremmo demanio, più o meno, però con un senso diverso perché è tipico del diritto inglese. E quindi creative commons sono beni comuni di tutti, di libero utilizzo. E le creative commons invece al femminile e con la C maiuscola, no perché è corretto vederla con tutti e due le accezioni. Eh, no, no, questo mi incuriosisce molto. Esatto, le creative commons sono le licenze, nel senso che creative commons è anche il nome di una fondazione, no, in realtà non è una foundation, è una corporation americana, no profit, con base in California, nel Silicon Valley, che ha dagli anni, dai primi anni 2000, messo a disposizione un set di licenze, che appunto hanno chiamato creative commons e il simbolino è quello che trovate nella locandina del nostro incontro di stasera, no? Cioè c'è la doppia C, cc creative commons, che anche mi fa un po' il verso alla singola C di copyright. E quindi le licenze creative commons sono delle licenze open, come nel senso che vi ho spiegato prima, quelle che dicevamo, software open source, che però vengono applicate non al software, ma a tutti gli altri tipi di creazione, quindi non so, i testi, le fotografie, le immagini, grafiche, le musiche, i video, e servono proprio per riliberare le opere rispetto al default del tutti i diritti riservati. Cioè il copyright dice di default, mette questa notazione, questa avvertenza, attenzione, tutti i diritti riservati. Creative commons invece ha un motto che dice alcuni diritti riservati, cioè l'autore e il titolare dei diritti si riserva solo alcuni dei diritti che la legge normalmente gli riserva, e gli altri li libera, gli altri li lascia liberi perché vuole creare quella common land, quel terreno di libertà, quell'area di libertà che normalmente il diritto d'autore non creerebbe. Ecco che nascono appunto le creative commons o i creative commons a seconda di come lo vogliamo vedere.